Volevo sapere se qualcuno ha notizie dei campioni d'Europa a testa alta. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Dove sono finiti gli interisti che sfottevano sabato sera la Juventus, il bel gioco di Tiago Motta, la Juve che non sa segnare? La Juve, la possiamo criticare noi della Juve. Voi è meglio che state muti, perché Fonseca vi ha dato due sberle e vi ha mandato a quel paese, voi che vi sentivate più forti d'Europa, voi che dicevate che eravate alla pari del siti. Alla pari del siti. Ma vi rendete conto delle ridicolaggini che dite? Se si può dire ridicolaggini, ma io lo dico, io sono sgrammaticato e lo dico e me ne frego. Ma vi rendete conto veramente? Avete fatto tutta la domenica sfottare la Juve. La Juve e Tiago Motta, gli acquisti di 70-80 milioni, il bel gioco della Juve. Indando la Juve, cinque partite, zero gol subiti. Pian pianino Tiago Motta sta sistemando la difesa. Pian pianino. E c'è già riuscito. Ora partirà col centrocampo per arrivare all'attacco. C'è bisogno pazienza. Ma noi non ci sentiamo i campioni d'Europa. Noi non ci sentiamo i livelli del Manchester City, come qualcuno crede. Primi a dirlo siete voi. E il vostro mister, Simone Inzaghi, spiase, che ha detto che ha giocato alla pari del siti. No, carissimo Simone Inzaghi. Voi avete piazzato l'autobus. Tanto è vero che come vi sbilanciate un po', Fonseca, Fonsechino, vi ha infilato due gol nel buchino. E allora carissima interista, chiacchierone, fai meglio a stare zitto, fai meglio a stare muto. Perché il derby l'hai perso. Perché ora sei sotto la Juve? La Juve che non ha gioco. La Juve che ha speso milioni è sopra di voi. E voi siete sotto, intanto, lo squadrone più forte di Europa. Noi siamo, ho sentito un interista dirmi che siete alla pari di Real City. Ma ascolta a me, ma vi rendete conto di quello che sparate? E poi arriva Fonseca e vi dà schiaffoni. E poi la cosa bella, la sconvitta, proprio sullo scadere, alla fine, quando ormai voi pensavate sì, ma tanto prima o dopo, entro l'ultimo minuto di recupero, un calcio di rigore, ce lo daranno. Perché siete abituati così? Ma il rigore non è arrivato. L'episodio Varre non è arrivato. Non è finita come Monza. Vi ricordate Monza? Eh sì. Eh sì, perché ora gli arbitri, forse, forse, iniziano ad avere un po' di paura, perché lo scorso anno è stato troppo eclatante. Anche ora dopo Monza-Inter mi sono reso conto che dico, ragazzi, ma veramente sono così sfacciati. Col Milano, onestamente, mi aspettavo qualcosa di strano, qualche episodio. Invece, a quanto pare, a quanto pare, so che voi tentate, perché so che avete tentato in ogni modo di poter portare a casa il risultato sempre col solito barbatrucco. Invece, il Barba Fonseca vi ha messo lì, sul comodino. Eh sì, cari miei, beccatevi questa sconvitta, state zitte e ricordatevi che voi non siete alla parte del Real del City. Perché voi, al Real e al City, potete solo guidare l'autobus che glielo parcheggiate davanti alla porta. Mi ha già chiamato Fonseca e mi ha detto di salutare tutti gli interisti che gli fanno tenerezza e dire che Fonseca era quasi sull'orlo, ma quasi lì, poco, pochino e veniva esonerato. Invece no, batte l'Inter, batte l'Inter. Guarda che strano questo campionato. Che strano questo campionato. Io perché ne pareggio tre di file, gli interisti che ci deridono. E invece, guai là, Fonseca me ne ha dato una di qua e una di là, amici bianconeri e amici del calcio, avevo voglia di sfogarmi. Sul tardi, proprio così, dico, ma sai che quasi quasi due paroline agli interisti, cioè gliele voglio dire. Avevo proprio voglia di parlare così, di esprimermi. Avevo voglia di sfogarmi e l'ho fatto, l'ho fatto con piacere. È ovvio che a me l'Inter vinca, che l'Inter perda, io me ne frego. Però voglio essere onesto, io metto sempre la faccia e l'onestà. Un po' sto godendo che le avete prese, come diceva un siciliano, di diritto e a riversa. Come dire, dritto e rovescio. Se questo video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like. Un bel like per festeggiare i campioni d'Europa a testa alta della terza squadra di Milano che hanno preso schiaffi di Fonseca. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like e poi mi raccomando, commentate. e voglio sapere la vostra sulla presunzione degli interisti. Fino alla fine, forza Juventus. Io me ne vaio. Ossa benedica a tutti i picciotti. Ciao. Bruciano gli schiaffi di Fonseca, vero? Mettete una crema rinfrescante, interisti. Mettete una crema rinfrescante, interisti. Mettete una crema rinfrescante.